e presunzione quando valdes 1509 1541 teologo e riformatore spagnolo in le cento e dieci considerazioni dice l'uomo acquista la pietà la giustizia e la santità per la imitazione di cristo in quanto imitando cristo va recuperando nell'animo suo la immagine e similitudini di dio con la quale il primo uomo fu creato commento l'uomo evolve anche se ateo grazie al suo cammino interiore il cristo è solo una fonte sapienziale e presunzione considerare la spiritualità occidentale come l'unica esistente per avvicinarsi all'assoluto